Lavora per vent'ero, quel ragazzo dietro di me, dalle sette e mezza alle cinque e mezza di sera, con mezz'ora di pausa. Non è giusto che si sfruttano gli esseri umani, specie noi sappiamo che se non pari bene non puoi avere qualcosa di mangiato, non puoi avere qualcosa in più. Siamo tutti gli esseri umani a questo mondo, siamo tutti figli di Dio, non è giusto sfruttare gli esseri umani. Non si sfrutta la gente ignorante così, facciamo un po' di piacere anche a loro, secondo voi è normale ragazzi, è normale si trovano ancora questa gente in Italia, siamo tutti uguali su questo mondo. Come mi pare Francese, mi hai spiegato e spiegato e alla fine ho capito che veramente lui non è successo molto difficile.